Wallyu, bonjour, stamattina un po' di casino, ho fatto fare l'ario solo a Giuseppe quello si è svegliato tardi, dovevo mandare la dottoressa e ne abbiamo fatto in tempo, mezzo macello stamattina, no febbre ma non ce ne aveva e niente devo fare gli esami del sangue perché la pediatra ha detto facciamogli fare perché voglio vedere alcuni valori e va bene, e niente, la non si è alzato, tutto a posto, ora sto andando a prenderli un po' qualcosa, ciao ciao ciao, si a te, e niente praticamente, diciamo che aspetta cuore che mi devo coprire, che se no qua, non vorrei avere problemi di malanni perché domani c'ho da fare, domani c'ho da fare, e va pupa, si anche perché poi domani pomeriggio mi devo andare a fare il tampone, capito? e niente, mo mi ha chiamato l'anto, dici che l'ha chiamato il Don Verne, ha detto sto partendo, sto andando a San Giovanni, quindi tra un po' te lo vedrai là, ma tranquillo, non prenderti agitazioni, non so se ti ha detto che doveva venire, ma non so che cazzo doveva venire a fare, comunque, forse devi far ringraziare, non so dirti insomma, capito cuore? beh, mi raccomando, ci sentiamo tra un po', fanno andare a prendere qualcosa, che pure Giuseppe vuole le mozzarella di bufano, ma gliele vado a prendere, va bene? beh, ci sentiamo dopo, ciao, ciao Magabba, ciao voglio, beh, dai, dai che è arrivato, dai che è arrivato, dai, 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 dai che è arrivato, mamma mia, non vi do l'ora, ciao